Orso labbiato Ma non esiste alcuna parentela fra i due animali Fu lo zoologo George Shaw a dare loro questo nome Per via dei loro lunghi artigli e i denti dalla forma inusuale Gli orsi labbiati all'apparenza non sembrano pericolosi Sono di piccole dimensioni e pesano soltanto 136 kg Inoltre non sono carnivori Hanno un muso piccolo e allungato E larghi spazi fra i denti Ideali per catturare e mangiare insetti